Girava per le città abruzzesi a bordo di un furgoncino con l'insegna pubblicitaria SOS Dentiera, ma non aveva i titoli per esercitare la professione odontoiatrica. I carabinieri del NAS di Pescara hanno denunciato un 55enne di Chieti che effettuava riparazioni odontoiatriche a domicilio. I militari hanno accertato che l'uomo non aveva la laurea e conseguentemente nemmeno l'iscrizione all'ordine professionale. Attraverso un kit pronto all'uso, il falso odontoiatra poteva effettuare visite diagnostiche trattamenti sanitari, anche di natura cruenta, riparazioni odontotecniche ai pazienti ignari della mancanza dei titoli necessari a svolgere quelle attività. La procura di Pescara, sulla scorta dei riscontri investigativi, ha emesso un decreto di perquisizione eseguito presso l'abitazione del falso dentista in un piccolo centro della provincia di Chieti. I militari hanno trovato, oltre al furgone, una struttura abusiva allestita nelle pertinenze dell'immobile, realizzata con pannelli in legno e cartongesso al cui interno era stato allestito uno studio dentistico e un laboratorio odontotecnico. I carabinieri hanno sequestrato un riunito dentale, attrezzature odontoiatriche e vari medicinali utilizzabili per prestare cure odontoiatriche, ma di esclusiva competenza di medici.